Netflix ha deciso di dare una seconda chance ai propri single più famosi per trovare la loro anima gemellale. Nel gioco dell'amore, ognuno avrà le proprie regole. Il miglior reality di incontri da piatto Netflix andrà in onda proprio il giorno di San Valentino. Nel gioco dell'amore, ognuno avrà le proprie regole. Grazie. Grazie.